Sono stata etichettata come rifugiata, portanto questa etichetta, per i primi quattro anni della mia vita. Sono una minoranza nel mio paese. Sono stata concepita sotto le bombe e nata durante la guerra. Ma tuttavia mi sento un frutto della speranza per un futuro migliore. Sono una donna, migrante. E ho lasciato il mio paese perché sono pronta a investire due anni della mia vita per creare e credere in un mondo in assenza di guerra. Rondin è formata da giovani che vengono dai paesi in situazioni di conflitto e post-conflitto. Noi, sì, tutti noi qui, abbiamo sentito il rumore delle bombe, dei fucili a pompa. Abbiamo visto le città rovinate, le società divise e abbiamo vissuto le conseguenze della guerra. Sappiamo molto bene come imparare nelle scuole distrutte ed essere divisi l'uni dagli altri, i nostri nemici. Sappiamo come appare un'infanzia distrutta, cosa significa vivere nella paura senza speranza e essere discriminati per quello che siamo. Ma abbiamo detto basta perché non vogliamo vivere in questo modo. Vengo dalla Colombia e nove mesi fa ho deciso di lasciare tutto nel mio paese per venire qui a Rondine e senza saperlo sono venita qui ad affrontare una delle mie più grandi paure, l'aspirazione di diventare una leader. E se qualcuno si chiedessi perché ho la paura? Semplice, in Colombia quelli leader che hanno una voce diversa dall'oligarchia hanno una morte certa. Sono cresciuta in una società dove le notizie di ogni giorno erano rapimenti, uccisioni, attentati, traffico di droga e prostituzione. E queste sono state le notizie del mio paese per più di 50 anni. Io ho capito una cosa e ho preso una decisione. Ho capito che la leadership politica tradizionale non funziona e che dobbiamo ripensare il modo in cui viene esercitata la leadership globale. Abbiamo bisogno di leader capaci di ascoltare senza giudicare, aperti al dialogo e che possono prendere decisioni, che possono portare a un benessere per tutta la società. A Rondine siamo impegnati a formare nuovi leader capaci di fare questo e una società che vogliamo costruire. Ma anche io ho preso una decisione. Ho preso la decisione di enfrentare i miei paure e di diventare una leader per la pace.